Michele Fanelli, Presidente del Circolo Acli, il Nicolino d'Oro è un appuntamento che si rinnova ogni anno e che premia non solo delle eccellenze, ma dei baresi che sono sempre più legati alla città di Bari per la loro attività e per la loro opera. Certamente, siamo giunti alla ventesima edizione, lo scopo era questo, premiare dei cittadini che promuovono la città, difesa della città, difesa dei valori fondanti, quei cristiani, della valorizzazione della nostra memoria storica. E quindi noi premiamo i colti, ma anche i non colti, perché il colto può scendere, il non colto non può salire e quindi va premiato qua a mezzo. Un'esperienza veramente emozionante perché San Nicola, il giorno in cui è morto mio padre, il riconoscimento della città, ha un lavoro difficile come quello del medico neonatologo che si occupa di neonati molto piccoli o molto malati. Ed è un ringraziamento che io voglio ovviamente dividere con il gruppo con cui lavoro, con l'idea appunto che qualche cosa di buono si deve fare anche dalle nostre parti e bisogna ritornare a essere un punto d'approdo anche per gli altri giovani. Fare in modo che l'Università di Bari, che la medicina Bari ritorni a essere davvero un punto di riferimento. Questo riconoscimento di oggi, questo Nicolino d'Oro, comunque afferma e sottolinea un rapporto diretto con la città di Bari? È un rapporto che naturalmente non si è mai spento, io circolo molto soprattutto a piedi in città e quindi percepisco l'affetto che la cittadinanza continua a mantenermi, un affetto che è certamente ricambiato. E aver ottenuto questo premio tanti anni dopo aver finito il ruolo di sindaco, anche se io mi sento sindaco ancora e sempre a tutti gli effetti, mi fa particolarmente piacere. Soprattutto poi riceverlo nel giorno di San Nicola, che come sapete è qualcosa che rimane sempre nel nostro cuore e che io durante la mia amministrazione ho cercato di esaltare ricostituendo i rapporti con la Russia, con il patriarcato di Mosca e dando anche quel segnale quando ci fu il crollo della chiesa a New York e contribuendo con fondi dei baresi alla ricostruzione e all'inaugurazione che avverrà nel corso del 2018. Grazie a tutti.